Il tuo nome? Alessandro. Alessandro, un desiderio che riguarda Expo, cosa vorresti che ti portasse? Ma a me niente in particolare, nel senso che mi piacerebbe che portasse un'idea diversa anche di Milano, cioè non soltanto una città grigia, la città della moda, la città dell'architettura, ma anche una città del verde, una città che ha delle zone poco valorizzate che invece si potrebbero recuperare, penso alla zona dei Navigli, non soltanto vicino a Milano ma anche periferici, quindi un nuovo modo di promuovere Milano all'estero.